è molto molto complicato ragazzi per voi è già mattina il lunedì mattina quindi vi auguro un buongiorno vi auguro bentornati sul mio canale vi auguro un buon inizio di settimana per me ancora tardanotte sto registrando quando ancora è notte perché nel momento in cui uscirà il video naturalmente sarò al lavoro e però ragazzi è davvero molto molto difficile darsi una spiegazione è davvero molto molto difficile cercare le parole adatte per spiegare a voi ciò che sento dentro in questo momento ecco mi dicono che sono ossessionato mi dicono che odio l'inter mi chiedono come mai odi sportivamente naturalmente parlando ragazzi parliamo sempre di calcio e non lo inventiamo mai come mai odi così tanto l'inter ecco ragazzi penso che questa azione questo quello che è successo ieri sera che a mio modo di vedere è uno degli episodi più gravi della storia del calcio da quando esiste il bar è successo davvero qualcosa di molto molto grave anche per la tempistica ecco anche per la tempistica per l'ultimo minuto poi stiamo parlando di un punto non stiamo parlando neanche sai più grave la differenza tra una vittoria un parigi a cui parliamo della differenza che ci può essere tra un parigi e una sconfitta quindi è sicuramente meno grave ma ne parliamo insieme più dettagliatamente in questo video prima di tutto come al solito vi chiedo un like al contenuto in questo caso è d'obbligo ragazzi perché è importantissimo far circolare il video visto e considerato che abbiamo anche le immagini questo video va fatto circolare assolutamente vi chiedo anche iscrizione al canale naturalmente dobbiamo crescere dobbiamo crescere ragazzi perché per abbattere questo sistema servono numeri e c'è bisogno che siate in tanti siate in tanti a seguire me e quelli che fanno il mio lavoro perché quello che è successo ieri sera ragazzi è qualcosa di veramente scandaloso quindi laicate iscrivetevi condividete a manetta questo video e azionate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrà a produrre su questo canale non voglio neanche scendere nel dettaglio ma vedetemi a questo punto in questo momento con questa situazione come si fa ragazzi come si fa a chiamare il fallo quando è chiaro ed evidente che tu devi dare regola del vantaggio ricordiamo che siamo all'ultimo minuto di recupero nella partita monza inter giocatori del monza naturalmente protestano in vano l'arbitro fa finta di non essersi accorto che avrebbe dovuto dare regola del vantaggio sta di fatto ragazzi che quando ci sono loro di mezzo non è il primo e non sarà certo ultimo in favore dell'inter ma quando ci sono loro di mezzo succedono le cose più strane le cose più inspiegabili della storia del calcio e questa ragazzi è davvero qualcosa che lascia basito perché tu ti ritrovi praticamente con un risultato falsato all'ultimo secondo di gioco le immagini ragazzi parlano da sole parlano da sole e sono difficili da commentare su questo su questa breve clip ci sono stato un quarto d'ora era difficile per me trovare le parole adatte a commentare un minuto e questa cosa qui ragazzi perché ogni qualvolta che la guardavo sentivo un morso qui alla bocca dello stomaco qui davvero ragazzi è dura è dura per chi ama il calcio vedere questo sport villeggiato e svilito in questo modo da questi personaggi perché non mi vengano a dire che l'arbitro non si sia accorto che sono cazzate sono cazzate sono cazzate non c'è buona fede c'è assoluta assoluta ma la fede in quell'azione c'è un chiaro disegno c'è panico per ciò che sta accadendo e non doveva accadere c'è panico per quella che può essere la carriera di un arbitro perché tu se ti rendi praticamente protagonista di una sconfitta dell'inter in un campionato come questo in quello scorso quello di due anni fa e rischi tanto rischi che non non te la fanno arbitrare più un po come è successo a kiffi no abbiamo parlato tanto kiffi non ha arbitrato più l'inter perché perché non perché abbia arbitrato male l'inter ma perché non l'abbia favorita perché quello è il problema c'è l'inter rifiuta gli arbitri se non la favoriscono e quindi e quindi vedete che che a pairetto non succederà niente non sentiremo alcuna giustificazione da parte di locchi che naturalmente come unico errore c'è l'errore di di bello dell'anno scorso ragazzi quello poi l'unico errore mica quando si dimenticano uno sulla bandierina del calcio d'angolo su un fuorigioco mica anche poi ieri sera tra l'altro anche sul gol del pareggio di domfils c'era un arnautovic che faceva che è stato considerato in fuorigioco passivo ma lì fosse stato bonucci a proposito di uve salernitana sarebbe stato considerato fuorigioco attivo e poi si erano dimenticati in quell'occasione candreva sulla bandierina ma questo ragazzi è un episodio davvero davvero clamoroso davvero clamoroso perché l'avete visto e ve lo sto riproponendo in un fermo immagine davanti a un'immagine del genere voi ditemi come può nella testa balenare ad un arbitro l'idea di fischiare e di non dare la regola del vantaggio quando si sa è risaputo non c'è bisogno di essere degli esperti di calcio la regola del vantaggio avviene proprio perché chi subisce fallo e si ritrova in una condizione comunque di vantaggio non deve essere interrotto perché chi subisce fallo stava facendo gioco chi ha commesso fallo ha fatto un'irregolarità per interrompere il gioco quindi se tu vai a fermare l'azione di chi sta attaccando nel momento in cui si è venuto a creare una condizione favorevole nonostante il fallo avvantaggi chi è stato scorretto e vai a svantaggiare chi ha tentato di giocare a calcio questo ragazzi è anche difficile da spiegare dal punto di vista tecnico qui c'è assoluta malafede assoluta malafede e nessuno ce lo spiegherà questa è una partita da ufficio indagini ma non c'è manco bisogno di indagare ragazzi non c'è manco bisogno di entrare questa se qualcuno ancora ci fosse qualche cretino perché qualche cretino c'è sempre la mamma degli imbecilli lo sapete sempre incinta che avesse ancora dubbi e vede un'azione del genere e continua ad avere dubbi ha dei seri dei seri problemi perché la stessa cosa più o meno qualche minuto prima successe al milan in quel caso poi ci fu fu il grottesco fu che non solo ti fu annullato il gol ma che la squadra avversaria riuscì a fare il gol perché il milan ha perso la testa l'avversario riuscì a fare il gol all'ultimo minuto e casualmente ve lo ricordate il milan con chi si giocava lo scudetto e quell'anno ne successero di cose strane ai tanti amici milanisti che sono qui io me lo ricordo io quell'anno ho festeggiato con voi lo scudetto sono stato felice di quella vittoria dello scudetto perché quello è lo scudetto di chi era onesto di chi cercava secondo me anche avendo un livello tecnico inferiore all'avversario soprattutto delle protezioni arbitrali di molto inferiore all'avversario cercava di cambiare un sistema che era vergognoso quindi per quello quell'anno festeggiai quello scudetto con voi però ragazzi quest'anno io mi auguro che sapete che si devono svegliare gli amici i colleghi i i napolegni i napolegni perché adesso sono primi in classifica e loro sono sempre stati anti juventini pro inter vedrete nel video che uscirà oggi pomeriggio che parlerà di federico gatti vedrete come loro come loro parlano male della juventus sempre e comunque tentano di sempre di mettere la juventus in cattiva luce e poi davanti all'inter si abbassano i pantaloni anche questa volta anche questa volta evidentemente si abbasseranno i pantaloni perché ricorda gli amici del napoli che adesso sono primi in classifica ad un punto dalla juventus meritatamente in questo momento ma che ma che dovrebbero essere a tre punti dall'inter se non ci fossero state delle irregolarità clamorose quella appunto della partita di ieri sera e quella della prima giornata col genoa ed invece si ritrovano ad un punto e queste cose a fine anno peseranno cari amici miei vedrete se peseranno o meno ecco perché per me quello che è successo è la morte assoluta del calcio è una vergogna di livello epico per il quale è anche difficile parla pensate che anche uno come marelli no che è sempre e comunque uno che fa parte del sistema e l'abbiamo visto appunto collegandoci a gatti è andato a dire che gatti ha avvicinato la faccia e quindi nonostante la testata ricevuta da pellegri anche gatti meritava il giallo e che secondo lui era corretto il giallo e non il rosso a pellegri attenzione questo è stato il commento di marelli in questo caso marelli non si è potuto esimere ha parlato di errore grave di scelta inspiegabile di pairetto perché è una scelta inspiegabile ed è un errore grave che va a falsare il risultato di una partita direttamente il risultato viene cambiato direttamente da una decisione arbitrale ricordiamo che siamo al novantaquattresimo e rotti in una partita in cui erano stati dati quattro minuti di recupero la partita era finita pessina solo davanti alla porta con la possibilità di concludere a rete non lo so se avrebbe segnato non lo so se avrebbe segnato avrei voluto tanto sapere se pessina in quell'occasione avrebbe conservato la freddezza per segnare se non giocatore esperto campione d'europa con la nazionale che ha fatto tanti gol importanti sia con l'italia che con l'atalanta quindi stiamo parlando dell'ultimo imbecille pessina solo davanti alla porta in quell'occasione in questa condizione per me c'è una grandissima possibilità che vada a mettere la palla dentro ed io avrei voluto tanto saperlo ma quest'arbitro ce l'ha impedito questa cosa qua oltre a fregare le squadre di calcio ha fregato chi ha giocato le scommesse ragazzi miei pensate a chi si è giocato l'uno in quella partita pensate come cazzo deve fare a spiegarsi che ha perso la bolletta dopo che ha tirato fuori i soldi ditemi voi ditemi voi ditemi questo nonostante io non sia un giocatore e abbiuro il gioco lo dico non mi piace il gioco neanche qualche volta quando ero più giovane qualche bolletta la chiamavamo da due euro da un euro da tre l'ho giocata ma mai oltre questo livello immaginate chi ha giocato dei soldi sulla vittoria del monza e si ritrova con una partita con il risultato cambiato ditemi voi e l'inter ha come sposo ben so ironia del caso e ragazzi ironia ironia della sorte ironia vigliacca come al solito comunque ragazzi sono la mafia del calcio dobbiamo cercare di ribaltare questo sistema con le condivisioni e di e di abbattere abbattere assolutamente questo sistema prima che perché perché il calcio sta morendo e lo dicono i dati lo dicono gli ascolti lo dice un calo di attenzione un calo di dei tifosi che guardano il calcio ma giustamente dire giustamente io mi metto nei panni di mio figlio un bambino che si approccia al calcio che sente parlare poi me di tutte queste cose e lui dice che cosa di cosa mi devo appassionare di uno schifo del genere cioè è chiaro ed evidente è chiaro ed evidente ragazzi ciò che è successo ieri sera è qualcosa che non è non è logico non è spiegabile ed è assolutamente vergognoso fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io vi ringrazio se mi avete dedicato qualche minuto che il vostro inizio settimana sono molto rammaricato e faccio fatica a trovare le parole ma fino alla fine contro tutte e tutti sempre comunque forza juventus è sempre più marotta league merda e soprattutto inter merda che per cominciare la settimana non basta comunque mai